BNL per Teleton è uno dei progetti di fundraising più importanti in Europa. Per BNL Gruppo BNP Paribas è veramente motivo di orgoglio essere riusciti a sensibilizzare il nostro pubblico sul tema delle malattie genetiche rare. Attraverso le attività che la banca BNL Gruppo BNP Paribas nel territorio promuove delle iniziative che hanno una valenza sociale importante, per esempio tutta la nostra attività che facciamo insieme ai principali teatri italiani oppure di organizzazioni che si occupano di valorizzare il patrimonio in Italia. Quest'anno sono 27 anni di partnership, sono più di 3 milioni di persone che hanno partecipato ai nostri eventi, 290 milioni raccolti in questi anni grazie all'impegno dei nostri sostenitori e soprattutto l'impegno dell'intera collettività. Siamo la banca per un mondo che cambia e siamo impegnati a cambiare il mondo per un futuro migliore. Grazie Grazie Grazie